Ui Falcon 3-0 ricevuto, battugliamento UAV iniziato. Posizione sicura. Nuova posizione in arrivo. UAV alleato online. Autonomia UAV ed Aurizio. Posizione confermata. Conquistate il quartier generale. presse in T-10. Quartier generale, attivo. Stanno catturando il quartiere. Vincito e due seri. Attaquo. Quartier generale contento. Stanno catturando il quartiere generale. Quartier generale contento. Meno di un minuto. Avanti. Ormai non sta poco. Stanno catturando il quartiere generale. Quartier generale contento. Stanno catturando il quartiere generale. Quartier generale contento. Stanno catturando il quartiere generale. Trenta secondi. Tempo scaduto. Muoversi, muoversi. Una via alleato. Inizio al quartiere generale. Stanno catturando il quartiere generale. Azzetto la trappola alleato in arrivo. La via generale è catturato. In attesa della prossima posizione. Nemico. Altenso. In attesa della prossima posizione. Confermata. Vizzate il quartiere generale. Nemico. Vicolo sul retro. UAB alleato online Guardia generale attivo Guardiamo il guardia generale UAB ronzo allo UAB alleato Attacco a grappolo pronto Guardia generale sicuro Guardia generale conteso It's the first Padgett I don't understand how it works